Musica Giovedì 9 giugno 2016 siamo a Bolzano, 200 partecipanti tra architetti e progettisti hanno assistito al convegno Il Futuro dell'edilizia. Convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Progettare e riqualificare l'edificio in pianto in chiave sostenibile. Questo è il tema della giornata di oggi, molti gli interventi scientifici e molte anche le aziende presenti che hanno avuto modo di presentarsi e presentare i propri prodotti. Essendo qui in un luogo più vicino a quelle che sono le abitudini tedesche ed essendo la nostra azienda tedesca abbiamo prodotti molto affini alla loro mentalità. Recentemente abbiamo realizzato due grandi progetti, quello di Saleva, questo stabilimento qui a Bolzano, poi Dottor Schar a Merano con due grandi realizzazioni con i nostri prodotti sotto pavimento. Noi abbiamo già effettuato diversi meeting con Action Group in altre città con bacini di utenza decisamente maggiori rispetto a Bolzano ma siamo assolutamente contenti della risposta che abbiamo avuto qui perché riunire 160 architetti in una città come Bolzano è un ottimo risultato. Siamo felici e continueremo a frequentare questo tipo di meeting proprio perché dando sempre soddisfazione. Grazie a tutti.